Ora adesso altri 2-3 minuti, poi basta. Dietro ti puoi anche buttare di schiena e poi rimbalzi di schiena, se ti diverti. Senta le mani magari, senta le mani, schiena per la schiena. Senta le mani, schiena per la schiena. Senta le mani. Sì, sta anche dietro. Senta le mani. Senta le mani. Senta le mani. Senta le mani. Senta le mani.